FIDAL STORIES FIDAL STORIES In questo nono episodio siamo alla Spezia e torniamo a parlare di pista, ovvero Piano Sviluppo Talenti. Progetto che punta a strutturare un percorso solido e coerente, dal reclutamento del talento fino all'accompagnamento verso l'alto livello, sfruttando al contempo il talento come leva di coinvolgimento specifico verso le discipline dell'atletica leggera. Noi siamo a circa 300 iscritti, abbiamo ovviamente anche una base di master, di anziani, quindi noi abbiamo aderito anche al progetto Silver. Ma naturalmente sono i ragazzini, il reclutamento soprattutto, gli esordienti, i ragazzini prima della categoria ragazzi che ci interessano molto perché è una base larga di quella, abbiamo tre allenatrici che sono attive su questo progetto e lì continuamente c'è un turnover di bambini che vengono e provano l'atletica. Facciamo anche manifestazioni, un open day come si dice oggi, li invitiamo a sfidare i nostri campioncini, di quei 4-5 ragazzi più forti che abbiamo, è divertente e vedo che c'è un buon accesso a queste giornate. Individuare un talento nell'atletica è anche facile per chi ha un briciolo di occhio e per chi è un po' appassionato, quindi basta guardare e poi avere le capacità e le competenze per far crescere un talento. Ho vinto il titolo italiano da cadetta nei mille metri nel 2022, nel 2023 ho iniziato l'anno vincendo il titolo negli 800 metri indoor e ho fatto il record italiano nei 600 metri, 1'29'82. Inizialmente è stato molto difficile perché le gare non era come quando giocava a calcio, si dovevi risprimerti ogni settimana, con l'atletica c'è la stagione soltanto estiva, quindi tutto l'inverno e la primavera sai da allenarti senza sapere a che punto sei arrivato. E quindi all'inizio è stato dura, però poi quando le gare ti fanno vedere che hai dei risultati e tutto l'anno che ti alleni poi hai quindi dei benefici e lì allora arriva il momento di soddisfazione che ti fa andare avanti, ti fa avere la carica, ti fa capire che cos'è il sacrificio. Secondo me la preparazione mentale è fondamentale, è fondamentale e a volte non è direttamente proporzionale purtroppo alla preparazione tecnica perché spesso si vedono ragazzi che in allenamento sono veramente validi e in gara non sanno reggere la pressione e in uno sport individuale è fondamentale l'aspetto psicologico. Sicuramente è un lavoro che bisogna portare avanti ogni giorno, una sorta di impegno che comunque comporta anche dei sacrifici, tanta consapevolezza che si acquista man mano che si va avanti e che ci si allena insomma. L'atletica non consiste nel vincere necessariamente ma nell'impegnarsi ogni giorno per spostare i propri limiti. I ragazzi che capiscono questo sono i ragazzi che si divertono e che imparano tanto dalla nostra atletica anche per la loro vita. Sono ragazzi migliori, noi dal 96 in qua abbiamo avuto una percentuale per esempio di ragazzi che poi si sono laureati e che sono nel mondo come laureati, è veramente importante e questo per noi è una grande soddisfazione. Io voglio cercare di essere il più possibile un riferimento per mia sorella che è più piccola, che ha 11 anni e anche oggi è al campo ad allenarsi e quindi vorrei essere un riferimento, un esempio per lei e cercare quindi di essere la versione migliore di me stessa insomma. Restate con noi, Fida Stories continua.